Cosa volevi fare tu da grande? Non ci ho mai pensato, apposta l'adolescenza, la gioventù, non l'ho mai conosciuto, mi sembra di essere nato così e morirò così, non faccio la distinzione di anni. Allora mi ricordavo sempre alla proiezione che ho già visto prima, pensavo quando vi è Pierpaolo, l'unica volta che venne Pierpaolo, non è mai venuto a vedere il primo giro l'ho vigilato, io pensavo quando vi è Pierpaolo, bravo Sergio, però a un certo punto con c'è questa sequenza, Pierpaolo la guarda, Sergio che cazzo hai combinato? Ma no Sergio, queste cose farle fare a Bertolucci, non farle tu.